Presentato a Palazzo San Giacomo, il cortometraggio Io vivrò, interamente realizzato dai ragazzi dell'educativa territoriale Amira Coop Sociale nell'ambito del progetto cinematografico Mare chiaro Labnet. Il tema dell'opera è la violenza di genere, un modo per prendere consapevolezza degli stereotipi e dei comportamenti inappropriati in un rapporto d'amore. Oggi guardiamo insieme ai ragazzi un corto che per noi rappresenta un messaggio molto importante, è un racconto di violenza, ma è un racconto di violenza di un ragazzo contro una ragazza, ma soprattutto di ragazzi che raccontano la violenza e come viene vissuta anche all'interno dei loro gruppi e di come forse in parte viene anche normalizzata, come diventa linguaggio fra ragazzi. Il corto è uno strumento che viene molto utilizzato da noi e che i ragazzi utilizzano per trasmetterci dei messaggi, quindi ci sembrava importante guardarlo con loro e farci raccontare attraverso le immagini quello che loro percepiscono della violenza e della sopraffazione anche, che a volte c'è nei loro rapporti. Il lavoro indaga gli effetti della violenza di genere sulla costruzione di una relazione fra adolescenti. La sua forza è quella di parlare ai ragazzi col punto di vista e la sensibilità di coetà.